come poter riparare un calice antico in cristallo di murano come potete apprezzare questa mattina mi è caduto questo esemplare ed è andato in frantumi ma la soluzione quale può essere io ho cercato sul web e non ho trovato nulla allora vi pregherei di lasciare le vostre risposte sotto questo video perché ci tengo molto a questo ricordo di famiglia commentate questo video e fatemi sapere grazie